Mi chiamo Francesca e a giugno del 2021 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin. La mia mamma mi ha spronato a tirar fuori la forza che avevo e gliene sarò per sempre grata. La ricerca fa da mamma tutti i pazienti. Insieme siamo più forti. Dai forza alla ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Domenica 14 maggio per la festa della mamma. Regala la zalea della ricerca. Vieni in piazza. Scopri dove su airc.it Grazie.